Seconda Pasqua in piena pandemia, le prossime festività saranno blindate quasi come lo scorso anno, lo ha deciso l'ultimo decreto Draghi approvato dal Consiglio dei Ministri che ha messo tutto il paese in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile e le regole sono chiare, vietato uscire di casa e andare fuori comune o regione se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Gli spostamenti che dovranno rispettare il coprifuoco dalle 22 alle 5 dovranno essere autocertificati e l'unica deroga per i tre giorni è quella stabilita per agevolare i ricongiungimenti familiari. Il decreto infatti consente la visita verso un'abitazione di parenti o amici una sola volta al giorno all'interno della regione nei limiti di due persone oltre ai figli minori di 14 anni o ai disabili o ai non autosufficienti conviventi, in aumento anche i controlli sulle norme anticontagio. Nella provincia di Pesero Urbino saranno oltre 250 le donne e gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. Particolare attenzione sarà rivolta al lungomare e alle aree verdi della costa e dell'entroterra. Su alcune zone è stata condivisa con i sindaci l'esigenza di provvedimenti di interdizione, dell'accesso e di presidio da parte dei volontari. Inoltre saranno intensificati i controlli sulle principali arterie stradali, ma verranno aumentate anche le verifiche nelle attività produttive e commerciali da parte dell'Ispettorato del Lavoro, un gruppo composto da ASUR, Nucleo Ispettivo dell'Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco. Oggi il sindaco di Fano Massimo Seri ha colto l'occasione per fare gli auguri alla cittadinanza e per lanciare un appello al senso di responsabilità. Siamo arrivati a Pasqua, viviamo questo momento importante in una situazione di grande difficoltà, ci sono restrizioni, in molti casi c'è la malattia e la solitudine, ma la Pasqua va vissuta con profondità, con intensità. È un momento di preghiera per chi ha fede, ma la Pasqua è anche un passaggio, è una rinascita. E allora ecco, viviamo questa Pasqua con grande profondità, con grande intensità, ma anche come un momento di speranza, come un momento di passaggio e di rinascita. Ma colgo anche quest'occasione perché in queste giornate di bel tempo, l'invito a tenere sempre comportamenti responsabili. Stiamo vivendo questa pandemia che è in una fase acuta, e allora è importante anche in questi momenti essere rigorosi e mantenere comportamenti responsabili. è il primo elemento per tutelarci. Alcune volte è meglio fare un passo indietro per farne due in avanti. Ecco, quindi voglio augurare a tutti voi una buona Pasqua, un passaggio che sia anche un momento di rinascita, come convinto che sarà, ma vivendola anche con grande responsabilità. Buona Pasqua a tutti.